Roberto d'Orto, quindi qualche trucco per la carbonara, come viene fatta? Allora, prendiamo una padella, mettiamo il nostro guanciale all'interno della padella e lo facciamo soffriggere fino a quando non diventerà bello dorato. Successivamente andiamo a cuocere la pasta, cuociamo la pasta e al punto di cottura la tiriamo fuori, andiamo ad inserirla all'interno del nostro guanciale, spadelliamo con un cucchiaio di acqua di cottura, andiamo ad aggiungere una bella spolverata di pepe, successivamente fuori dal fuoco aggiungiamo una bella spolverata di pecorino, le nostre uova e andiamo a chiudere il piatto con ancora una bella spolverata di pecorino e una grattugiata di pepe fresco.